L'acqua è l'elemento principale attraverso il quale percepiamo gli effetti del cambiamento climatico in atto sul nostro pianeta. Temperature e precipitazioni sono i principali fattori che influiscono sullo sviluppo della vegetazione e sulla distribuzione delle popolazioni animali. La crescita eccessiva di alcune specie di cianobatteri e di atomee non native e invasive a causa del riscaldamento globale è tra le principali minacce per la risorsa acqua in molti laghi. Gli effetti del cambiamento del clima terrestre hanno conseguenze non solo sulla disponibilità e qualità delle acque, ma anche sulla loro igiene e quindi sulla salute umana. Le malattie veicolate dall'acqua e clima dipendenti, trasmissibili e non, sono infatti uno dei principali killer nel nostro pianeta. E l'insicurezza degli approvvigionamenti idrici, che riguarda ancora più di tre quarti della popolazione mondiale, è una delle maggiori minacce per il prossimo futuro. Grazie per la visione!